Il premio birrificio dell'anno è promosso da Union Birrai, un'associazione importante nel panorama dei birrifici indipendenti. Ne parliamo col presidente Vittorio Ferraris, Union Birrai, qual è la sua attività? Union Birrai innanzitutto è l'associazione di categoria dei piccoli produttori indipendenti artigianali, una categoria di produttori in Italia che sono tutelati da una legge, perché noi abbiamo una norma che prevede che cosa sono i piccoli birrifici indipendenti, che sono i birrifici con una produzione inferiore ai 200.000 ettolitri e che hanno una indipendenza economica e legale da qualsiasi altro birrificio. Quindi sono due concetti importanti che sono la dimensione e l'indipendenza. Poi la loro birra è definita artigianale nel momento in cui non subisce i processi di pastorizzazione, di microfiltrazione che sono processi tipici dell'industria. Un'associazione di categoria che oggi ha al suo interno circa 350 associati, quasi un 40% delle imprese oggi presenti in questo comparto in Italia. Per gli ascoltatori, qual è la differenza tra una birra pastorizzata, filtrata, quindi una birra artigianale e una birra industriale? Beh, diciamo che questi due processi sono due processi che chiaramente modificano le caratteristiche organolettiche del prodotto, perché sono due processi che vengono utilizzati per dare stabilità al prodotto e lunga conservazione. E ovviamente uno degli obiettivi principali è quello di entrare in un comparto di distribuzione che permetta dei tempi molto lunghi nell'attività commerciale di vendita. È ovvio che la birra non pastorizzata e non filtrata ha delle caratteristiche organolettiche ovviamente più ricche, perché mantiene tutti quei requisiti che noi cerchiamo nel prodotto in termini di aroma e di sapori. Dall'altra parte è ovvio che la penalizzazione sta nella sua shelf life, quindi nella durata del prodotto e soprattutto nell'attenzione, nella sua conservazione, nella distribuzione. È un limite grosso perché chiaramente non si può accedere a quella larga distribuzione che prevede regole completamente differenti. Il mondo della birra in Italia ha sempre sofferto una presenza del vino, è sempre stata, come posso dire, la sorella povera, la sorella più giovane rispetto al vino. Negli ultimi anni invece sta assumendo una popolarità, sta assumendo un ruolo che sicuramente se la gioca alla pari col vino. Sono possibili ulteriori sviluppi? Sono sicuramente possibili. Guardi, questo fenomeno che lei ha descritto perfettamente deriva dal fatto che noi siamo un popolo comunque abituato a bere vino. Noi non abbiamo una tradizione birrare in Italia, contrariamente a tutti gli altri paesi europei che invece hanno una grandissima tradizione. Questo si traduce anche in un consumo molto più basso rispetto agli altri paesi. Devo dire che negli ultimi vent'anni, anche con l'avvento del mercato artigianale, che ha portato un concetto di diversità, cioè ha portato al consumatore italiano prodotti completamente nuovi, in un concetto di ricerca e di innovazione, per certi versi anche andando a riprendere stili che nel resto dell'Europa sono presenti da anni. Quindi diciamo che il consumatore oggi si è avvicinato a un prodotto completamente diverso da quello che conoscevo prima. Perché noi nell'immaginario comune la birra che cos'è? Quella bevanda da 5 gradi, chiara, frizzante eccetera. Oggi il mondo artigianale ha portato al mercato dei prodotti completamente diversi e come diceva lei sicuramente avvicinandosi a una diversificazione come appunto è quella del vino. Questo comporta anche che il consumatore, da semplice consumatore, diventi un consumatore culturalmente vicino al mondo della birra. E questo è l'altro grande impegno di Union Birrai, cioè la nostra associazione che è proprio quella di promozione, divulgazione e formazione. Cioè il nostro obiettivo è quello di creare consumatori sempre più consapevoli, che sappiano avvicinarsi a questo mondo con conoscenza e sapendo apprezzare e differenziare i prodotti con una scelta oculata, certo. Per avere maggiori informazioni sull'associazione che presiede? Abbiamo un portale con tutte le informazioni necessarie, www.unionbirrai.it, consultabile per qualsiasi cosa, tra cui anche l'associabilità, perché ricordo che noi siamo un'associazione di produttori, però proprio per questo aspetto culturale al nostro interno accogliamo anche tutti gli appassionati che vogliono avvicinarsi all'associazione e quindi l'iscrizione è assolutamente libera e potete consultare su www.unionbirrai.it tutte le condizioni. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.